Intro Ah hi people of YouTube Welcome back to the new episode of Scarlet Nexus A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un salto nel tempo letteralmente E ci siamo ritrovati nel futuro E abbiamo quindi scoperto che il nostro potere non è la psico-cinesi Come è sempre stato detto Ma la gravito-cinesi Ovvero il potere sì di usare la psico-cinesi Ma è un effetto secondario E quello di usare il salto nel tempo Il che è impressionante E soprattutto è pericoloso sapere che ce l'ha ora uno che può copiare i nostri poteri Come Karen Voglio parlare con Kyoka Eh c'è ragione sorella, c'è ragione Ma sembra che possiamo fare due eventi legame E Shiden non ci calcola minimamente Non ho regali per lui, vero? Kyoka oppure la piccina Prima iniziamo da Kyoka La versione di Yuto di 50 anni del futuro era completamente diversa da quella del presente Aveva un espressione così dura e cupa Sentiamo qual è la sua preoccupazione Eh esatto, vediamo Soffro di seconda personalità Sono una pazza isterica che vuole assolutamente vincere e distruggere i nemici Arashi, non dire queste cose Eh ecco Qualcosa è il genere Ci ho azzeccato Beh è già qualcosa di positivo dai Non l'avrei mai detto questo sinceramente Ah, non l'avrei mai detto Era una bulletta insomma Beh dai, io così no Ho un bel appuntamento Io e il mio letto La volontà di proteggere i tuoi compagni? Secondo me è quella Ok, questo invece vede tutta la sua squadra Giappone Ragazzi, segnatevelo Giappone Ed è per quello che ci hai regalato quel mega portafortuna grosso così Mi piace di più quando combatti Ma va bene anche così dai Non è proprio un complimento però grazie In che senso, a lungo? Intendi buono o intendi forte il combattimento? Perché non è uguale per niente a quella che è adesso No, grazie Era una delle abilità di Naomi Non me lo farò dire da nessun altro se non da lei Anche se poteva fare solo di 10 secondi in 10 secondi Diversi tipi di divinazione, vediamo Ah ok, è una mail Voglio darti una cosa Scusa il messaggio improvviso Voglio darti una cosa Che ho avuto da Naomi Troverai il Musubi A parte che sto Musubi Ancora io devo vedere l'anime Ma che palle Tutti li vanno Va bene Andiamo da lui prima No, non è stata colpa tua dai Non prenderti colpe che non avevi Poteva andare peggio Non ti preoccupare Gemma Esatto Ecco, tieni Mi ha detto idartela se fosse successo qualcosa Eh esatto Immagino che si fidà solamente di lui Tu l'hai letta Gemma? Ah Quello che diceva che ogni tanto avrei voluto insegnarci a cucinare Preferisco che l'abbia tu che io Ti rendi conto Ti rendi conto Beh sicuramente si impegnava a modo suo E questo ce ne siamo resi conto Purtroppo nel peggiore dei modi Gusto dei nutrienti Ma scusami Quante ricette ti ha scritto su quel foglio grosso così Il foglio era Grosso così Quante cacchio di ricette ti ha scritto Medico Perché voglio aiutare te ora Eh è un pensiero carino Sì ovviamente Arigato Beh ti ringrazio del pensiero assolutamente Non è quello che intendevo Bene Ora tornerai invece a noi sempre in mente Grazie Gemma Tutti gli altri chi se ne frega Lei no È importante No 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 Quindi meglio liberarsi dei problemi Tieni Te li do a te Non è colpa tua Te lo ripeteremo sempre Mi dispiace dirtelo Ma non è colpa tua Esatto Questa cosa mi fa stare male Tienila Giustamente Tanto peggio di così no Non può andare peggio Può sempre piovere Grazie Grazie È sempre bello avere qualcuno grosso Che ti protegge le spalle Poveraccio E non deve È quello il punto Cioè non l'ha presa bene Probabilmente l'ha scritto a mano da Naomi Era palese Che sicuramente avrebbe preferito Tra virgolette Che lo tenesse lui Ma non pensavo L'avrebbe presa così male Detesto vedere Buttare via la sua gentilezza Te l'ha solo ridato Pensando che ti avrebbe fatto piacere Eh la madonna Kazana posso chiederti una cosa In generale Cosa fai nel tempo libero Tempo libero Mi alleno Giustamente Anche io forse allora Non puoi aiutarmi I miei colleghi Mi hanno detto Che devo trovarmi un hobby È solo che non mi piace usare il tempo Per cose superfue Beh come non detto Lascia stare Scusami Cose superfue Oh grazie Meno male Cercavo questo kit Per riparare le cose Da tanto tempo E quello non è un hobby Gemma A parte tutte queste biciclette Perché sono qui Va bene Vediamo invece La tizia Rosina Che cosa vuole Dalla mia vita Ehi Arashi Il campo neurale Che Karen ha usato Sulla superstrada Kundad È stato davvero tremendo Non voglio mai più provare Una cosa del genere Evento legame Inchia Sicuramente Kazane Dopo quello che è successo Ci credo anch'io Grazie Grazie della preoccupazione Ma non serve Oh no Devo pulirlo Devo andare a prenderlo È un regalo È un regalo di mia sorella Può essere Può essere che quel Fermacapelli Abbia qualche segreto Me l'ha fatto lei Non posso Non prendermene cura Ah è vero Non ci avevo fatto caso Vabbè Fantastico Beh è normale che si sporchi È il simbolo di mia sorella Beh forse dove resti Magari un anellino No Non ce le facevano Per quel Alla fine ci fai l'abitudine In che senso Ah ecco strano Sì se non c'è altro Penso che farò direttamente quello Insegnamenti di riposino Sì l'hai dato per scontato Non tutti i fratelli E tutte le sorelle Vanno d'accordo Sembra quasi una cosa Non c'è sta Ho preferito non finire la frase Beh se non c'è altro Io proseguirei Secondo me appena tocca il tavolo Mi chiama qualcuno Quanto ci fai? Riposo un po' casane Che ne hai bisogno Ah strano Chi l'ha messa qui Come c'è arrivata? Ma Seto è morto E è solo ferito Questo ancora devo capirlo Ah oddio Ho appena collegato tutto Ecco chi è che ha salvato Yuto da bambino E lei veramente Ah che stupido Non ci avevo pensato Quindi Vuoi vedere Che lei proverà Torna in dito nel tempo Per salvare tutti Può essere una soluzione Va bene andiamo Non c'è problema Beh ora non ne ha più intenzione Sei con me o contro di me Yatta Ottenuta la penna stilografica Di Seto Il punto di non ritorno E addirittura Chissà quante fasi di gioco Ci sono in totale Dove sono tutti Eh esatto Ne dubito Casane Penso che la prima cosa che farebbero sia Prendere una città E ovviamente non lo faremo Sì Guarda caso Ne sei sicuro Di te non si può fidare così facilmente Arashi Eh Arashi si Shiden Però non possiamo farlo Ovviamente Va bene combattiamo Duplicazione Duplicazione Aia ma che palle Chissà se Ho appena scoperto in realtà Che gli oggetti speciali Non funziona Non funziona la duplicazione Sfortunatamente Sfortunatamente la duplicazione Sugli oggetti speciali Non funziona Che peccato Beccati questo Muori Ecco fatto Distrutti tutti Punto di salvataggio Ne abbiamo Ora arriverà uno grosso Sicuramente Non mi ricordo Se a Alla nostra amica Gli abbiamo cambiato qualcosa Oppure no Sì Sì l'ho visto Forse stanno andando a combattere O magari no Eh esatto O magari no Perché dovrebbero essere tutti loschi A questo mondo Oh bravo Shiden Hai capito come funziona Il mondo Finalmente Dobbiamo aiutare La gente Beccati questo Ah peccato Pensavo di averlo preso Beccati questo Insieme di averlo preso Sì l'ho visto Che è male Tra l'altro Oh perfetto Siamo saliti di livello Stavo dicendo Devo curarmi Vediamo quanti punti Abbiamo preso Abbiamo 5 punti E direi Quindi Sai che effettivamente Anche gli attacchi Consecutivi in aria Non sono male Beh per adesso Sass Non ne abbiamo Granche però Tanto vale Portarsi avanti A questo punto Perché le combo aeree Eh Non mi sembrano Per nulla male Però a questo punto Puntiamo di nuovo Sul Sass Nel caso poi Ce l'abbiamo già pronto Per i prossimi giri Madonna mia L'ho devastato Con un colpo solo Becca Ecco fatto Fu Distrutto Non so se È perché siamo Livellati o cosa Ma L'abbiamo distrutto Abbastanza Velocemente Questo Eccolo qua Alto tizio Grosso Beccato Magona mia Lo stanlockato Tronzo Ecco fatto Piccione distrutto Chi c'è Arrammi Ora ti Spacco la faccia Appena Sono Alla giusta Distanza Ecco qua Ecco qua Dov'è l'ultimo Dove sei Madonna mia Gli attacchi L2 A volte sono Un filo Esagerati Perfetto E che Palle No Meglio i Corazzati Prima Che Palle Beccato Beccato Questo Ecco fatto Beccato Beccato Questo Donna mia Spacco la faccia Scemo Vi han vinto Ora si Crackate Queste animazioni Quando c'è la Maschera Diventano Davvero Belle Beccati Questo Uno E due Madonna mia Una macchia Di tra la schiena Proprio Stronzo Allora Disattiviamo E disattiviamolo Ora arriva Sicuramente Qualcuno Quanto ci fai Aspetta Ovviamente Oggetto curativo Dai che Finalmente ci siamo Siamo vicini Si è disattivato Tutto Hanno tolto La corrente Chi l'avrebbe Mai detto Ma in realtà Ti dirò che è anche Carina la città I vacui Eh esatto Quelli che non posso Vedere i Visogrammi Esatto Madonna mia Che stronzi Siete tutti Un po' Eh esatto E' un po' Discriminatoria E quelli che non ce l'hanno Quanti sono Questo era ovvio Chioca Qualcuno deve averlo Attaccato Di che esperimento Parlate E casualmente Consigliere Sono appena arrivato Adesso mi rappresentano Di una cosa a caso Aspetta Aspetta Cosa è Cosa è Un po' Yui E' Sì E' Tira uno Schiappo E' Sì Non... Cosa ha anche di altri giudici, il giudizio Sumeragi. Tutti erano in grado di giro... O no, dobbiamo scappare! Sono scambiato! Non mi chiedevi di ascoltare al risultato del risultato! Ohi, Kasane! Sì, non mi chiede! Se se ci sei a Sumeragi, Vuoi vedere che forse siamo stati davvero noi Da ucciderlo Perché adesso Madonna mia Ecco fatto Poveretto Ecco qua Colpiti Un po' di gente assieme Aspetta aspetta Che destino infame per sta gente Aia Tirati su Casane Non ti puoi far tirare giù Da una mossa del genere Ecco qua Una bicicletta Abbiamo più niente da lanciargli addosso Sti stronzi Poveraggi madonna mia Allora prendiamoci la cura Grazie A me serve un tizio di salvataggio Eccolo là Eccolo là Beccati questo Ma cos'è una motosega Ma tu sei impazzito Ma perché c'è una motosega circolare addosso Boh Vabbè guarda Non mi sorprendo più di nulla ormai Tizio di salvataggio Aiutami tu Aspetta Prima fammi vedere che cos'hai Aggiunti nuovi oggetti La gelatina media Zampa di animale La madonna Non costa di più Salviamo dal nostro amico Sta succedendo qualcosa di grosso Ma va Chi l'avrebbe mai detto fratello Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti